Ciao a tutti siamo i Buio Pesto Ciao E anche quest'anno si terrà la gloriosa partita Nel cuore della nazionale italiana cantante Sì, anche quest'anno E si terrà martedì 30 maggio di Juventus Stadium di Torino Sì, 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 però quest'anno ci saremo anche noi Ci sarete anche voi a fare che cosa? Che non sapete tirare un calcio o un pallone? Sì, perché sei bravo te E sono bravo io Andiamo a cantare Andiamo a cantare Cantare che cosa? Le nostre canzoni Sì, sì Un campo? Sì, sì Come i veri prima della partita Ma dai ci saremmo anche noi a cantare come i veri prima della partita Incredibile Questo è un motivo in più per venire a vedere questa partita Il cui incasso verrà devoluto metà alla fondazione Teleton E metà alla fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro I biglietti sono ancora disponibili Per cui affrettatevi andatele a prendere Dobbiamo riempire lo Juventus Stadium di Torino 45540 numero per fare una donazione già dolci fino al 6 di giugno Faccio un appello a tutti i Liguri che abitano in Piemonte E in particolare a Modo Torino Veniteci a vedere perché porteremo un pochino di Liguria All'interno della Juventus Stadium Un martedì 30 maggio alle ore 20 E poi dopo chiaramente è finita di cantare Voi a casa E io rimanoro in panchina In panchina In panchina vetrina A scaldare la panchina A fare la maglia A scaldare la panchina Sì sì a fare la palla Sono gelosi e basta Martedì 30 maggio Juventus Stadium di Torino Nazionale Italiana Cantanti e il Buio Pesto Vi aspettiamo Ciao Ciao